Noi abbiamo sentito, e lo dico chiaramente, solo il 14-15 di ottobre che la prefettura voleva la caserma, mai prima. Arriva secca da Oderzo la smentita delle accuse di doppio gioco avanzate dal segretario provinciale della Lega Nord. L'amministrazione Peter Gina, addetto in sostanza Quinn, dice ai suoi cittadini di essere contraria alla sistemazione dei profughi nella ex caserma Zanusso, quando invece esisterebbe un accordo favorevole con la prefettura da più di un anno. Tutto falso, replica De Luca. Noi avevamo avuto delle richieste, il sindaco precedente, se avevamo i mobili nostri o se avevamo conoscenza dei mobili di altri, ma in realtà né i mobili nostri né ci risultava che altri mettesse a disposizione. Che ci fosse un problema di immigrazione lo sapeva tutto il mondo, non solo noi, lo sapevano tutti, però sulla caserma Zanusso solo da metà ottobre. La decisione della prefettura ci danneggia fortemente, ribadisce De Luca, e la manifestazione si farà con o senza Lega Nord, perché è in gioco l'interesse della città. Conto questa espropriazione della caserma Zanusso, che era già nostra, era quasi nostra, mancava solo un passaggio burocratico, invece adesso si specula sulle frasi, sul sentito dire eccetera. Venite a partecipare, siamo uniti, siamo compatti.